bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi è appena arrivata una notizia veramente incredibile sembrerebbe che sia possibile spaccare il meteorite con il carrello ragazzi devo assolutamente provarci devo assolutamente provarci sembrerebbe che serva una rampa per farlo ragazzi proviamo a vedere oh mio dio oh mio dio si può spaccare il meteorite raga ma non ci ma così ma così di prepotenza proprio ma no ringrazio quello che me l'ha detto ragazzi prot di prepotenza così ragazzi andiamo a spaccare il meteorite risolto il problema della stagione 4 ragazzi meteorite completamente distrutto gg per il carrello ragazzi il meteorite non c'è più il meteorite è sparito le grandi esplosioni voglio vedere la gente quando entra ragazzi abbiamo appena distrutto il meteorite raga no vabbè i grandi bug che ci sono in fortnite sono meravigliosi vi prego qualcuno entri a vedere che ha distrutto il meteorite vi prego venite qua venite qua dai che non voglio più niente non c'è più nulla no vabbè raga prot proprio con una prepotenza ignobile ragazzi così cattivo così beh ragazzi avete già visto tutti ovviamente da dragon stick che si poteva spaccare anche il bunker nel boschetto ma forse che si poteva spaccare il meteorite non l'avevate visto ringrazio ancora uelo grazie a tutti i ragazzi per aver guardato questo video condividetelo e gg per il carrellino noi ci vediamo in live ciao 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 ciao